Stiamo avendo gli effetti delle misure restrittive, cioè il distanziamento sociale fino a questo momento è stata la misura più efficace per la gestione della pandemia, ma non ci dobbiamo illudere che questa emergenza sia ormai alle nostre spalle. Quindi dobbiamo tenere ben presente che a tutt'oggi questa in assenza di virus e di vaccini e di farmaci che sono ancora disponibili, il distanziamento è la regola fondamentale e lo sarà anche nei prossimi mesi, perché è vero che stiamo spegnendo l'incendio più grande che quello del nord, ma nelle regioni a media intensità come l'Abruzzo il numero di casi deve ancora aumentare. Perché? Per due motivi. Primo perché abbiamo aumentato la capacità di fare diagnosi, cioè l'aumento voluto dall'assessore e dal governatore della capacità diagnostica dei laboratori che sono stati inseriti nell'elenco nazionale, negli accreditati per il Covid-19, ci ha portato ormai alla capacità di fare almeno mille tamponi al giorno. Proprio perché andremo a studiare un po' tutte quelle catene epidemiologiche che prima non studiavamo. Quindi noi dobbiamo lavorare su due fronti, dall'altra continuare a allestire posti letto di terapia intensiva, dovremmo ospedalizzare quando possiamo tutti i pazienti che hanno sintomi, anche sintomi di media intensità assistenziale e dobbiamo creare delle strutture di residenziali di alloggio dove tutti i positivi possono essere così isolati. Non solo all'inizio della sintomatologia e monitorarli se ci sono degli aggravamenti, ma dobbiamo anche mettere in queste strutture quei pazienti che una volta dimessi dagli ospedali perché non hanno più una sintomatologia importante, sono ancora portatori. Proprio perché dobbiamo impedire che si accenda il grande fuoco, il grande incendio come quello che c'è stato nel nord, dobbiamo in questo momento potenziare la gestione delle cure territoriali. Quindi medici di famiglia, medici di prevenzione, specialisti ambulatoriali devono creare questi gruppi che noi chiamiamo USCAT, di unità territoriale, possiamo chiamarli come vogliamo, però sono dei gruppi di team di intelligence che vanno a cercare il virus e contenerlo in modo da evitare che possa ripartire questa epidemia anche a livello regionale. Questo sarà molto importante perché questa strategia di spegnere i piccoli fuochi ce la porteremo avanti per qualche mese.